Dodicesima Domenica del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Matteo Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Nel Vangelo di oggi, il Signore Gesù, dopo aver chiamato e inviato in missione i Suoi discepoli, li istruisce e li prepara ad affrontare le prove e le persecuzioni che dovranno incontrare. Andare in missione non è fare turismo. Infatti Gesù ammonisce i Suoi, troverete persecuzioni. Egli esorta, non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vedi nascosto che non sarà svelato. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Ci sono quelli che possono uccidere soltanto il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Di questi non abbiate paura. L'invio in missione da parte di Gesù non garantisce ai discepoli il successo, così come non li mette al riparo da fallimenti e sofferenze. Essi devono mettere in conto sia la possibilità del rifiuto, sia quella della persecuzione. Questo spaventa un po', ma è la verità. Il discepolo è chiamato a conformare la propria vita a Cristo, che è stato perseguitato dagli uomini, ha conosciuto il rifiuto, l'abbandono e la morte in croce. Non esiste la missione cristiana all'insegna della tranquillità. Le difficoltà e le tribolazioni fanno parte dell'opera di evangelizzazione e noi siamo chiamati a trovare in esse l'occasione per verificare l'autenticità della nostra fede e del nostro rapporto con Gesù. Dobbiamo considerare queste difficoltà come la possibilità per essere ancora più missionari e per crescere in quella fiducia verso Dio, nostro Padre, che non abbandona i Suoi figli nell'ora della tempesta. Nelle difficoltà della testimonianza cristiana nel mondo non siamo mai dimenticati, ma sempre assistiti dalla sollecitudine premurosa del Padre. Per questo, nel Vangelo di oggi, per ben tre volte, Gesù rassicura i discepoli dicendo «Non abbiate paura». Anche ai nostri giorni è presente la persecuzione contro i cristiani. Noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati e l'odiamo Dio perché, nonostante ciò, continuano a testimoniare con coraggio e fedeltà la loro fede. Il loro esempio ci aiuta a non esitare nel prendere posizione in favore di Cristo, testimoniandolo coraggiosamente nelle situazioni di ogni giorno, anche in contesti apparentemente tranquilli. In effetti, una forma di prova può essere anche l'assenza di ostilità e di tribolazioni. Anche nel nostro tempo il Signore ci manda, oltre che come pecore in mezzo ai lupi, come sentinelle in mezzo a gente che non vuole essere svegliata dal torpore mondano e che ignora le parole di verità del Vangelo, costruendosi delle proprie effimere verità. E se noi andiamo o viviamo in questi contesti e diciamo le parole del Vangelo, questo dà fastidio e non ci guarderanno bene. Ma in tutto questo il Signore continua a invitarci come con i discepoli del suo tempo. Non abbiate paura. Quando noi abbiamo qualche tribolazione, qualche persecuzione, qualche cosa che ci fa soffrire, ascoltiamo sempre la voce di Gesù nel cuore. Non abbiate paura. Non avere paura. Vai avanti. Io sono con te. Non abbiate paura di chi vi deride e vi maltratta e non abbiate paura di chi vi ignora o davanti vi onora ma dietro combatte il Vangelo. Ci sono tanti che davanti ci fanno sorrisi ma da dietro combattono il Vangelo. Gesù non ci lascia soli perché siamo preziosi per Lui. Per questo non ci lascia soli. Ognuno di noi è prezioso per Gesù e Lui ci accompagna. La Vergine Maria, modello di umile e coraggiosa adesione alla parola di Dio, ci aiuti a capire che nella testimonianza della fede non contano i successi ma la fedeltà, la fedeltà a Cristo, riconoscendo in qualunque circostanza anche le più problematiche il dono inestimabile di essere Suoi discepoli missionari. Grazie a tutti.